Dottor Luigi Romandini, dirigente della provincia di Taranto, beh, la sete di giustizia è forte. Diciamo che è necessario soprattutto che la giustizia faccia il suo corso, che percorra le sue tappe e sicuramente la giustizia triunferà. Si riparte ex novo, già ne abbiamo parlato con altri interlocutori, altri soggetti intervistati, qui incombe questo rischio della prescrizione? Diciamo che purtroppo la prescrizione, come del resto hanno riferito anche nelle sedi più opportune le associazioni dei magistrati e i vari operatori del diritto, è forse il male endemico che affligge l'amministrazione della giustizia in maniera più acuta. È un male acuto ed è anche un male purtroppo cronico. Ci sono certamente da verificare, da apportare delle modifiche nella nostra procedura, però i dati normativi sono questi e quindi io sono sicuro che l'amministrazione della giustizia terrà conto di questo per arrivare in tempo debito a una manifestazione di verità giudiziaria. C'è anche l'amarezza e il dolore che si celebrano i processi, eppure le emissioni inquinanti procedono e proseguono come prima e più di prima. Questo è un altro dato rifatto. Del resto adesso c'è un'attenzione ancora maggiore nei confronti di queste situazioni che continuano ad ammorbare l'aria, ad avvelenare il terreno, ad avvelenare il mare. E questo è un altro discorso che richiama comunque l'attenzione di chi ci amministra e di chi leggifera, quindi sia del nostro Parlamento sia dei nostri amministratori. Perfetto, ok. Grazie.